Attività produttive chiuse? Non proprio. A parte quelle inserite nel lungo elenco del decreto del Governo, sono oltre 3.000 le domande inviate alla Prefettura di Vicenza in cui si chiede di rientrare tra le aziende che possono rimanere in attività. Domande che sono tutte al vaglio degli uffici della Prefettura. Alla data di venerdì sono state 500 le aziende le cui domande sono state verificate. Per una sessantina di queste è stato chiesto l'integrazione, rimanendo pertanto in sospeso. Di fatto, spiegano dagli uffici di Contra delle Gazzolle, si lavora su autocertificazione e il cosiddetto silenzio assenso, ma tutte le domande vengono verificate. Oltre 2.000 quelle di aziende che chiedono di entrare nei cosetti codici ATECO che identificano la produzione, in quanto dichiarano di rientrare nella filiera produttiva di attività già inserite. C'è poi chi avrebbe una produzione a ciclo continuo e se interrotta potrebbe creare incidenti. Ci sono poi le aziende dei settori aerospaziali e della difesa, 5 in tutto, la cui richiesta, già vagliata dal prefetto, ha avuto esito positivo.